ciao ragazzi bentornati sul mio canale in questo video volevo farvi vedere una bellissima borsa shopper firmata avon andiamo a vedere insieme come si presenta per prima cosa volevo mostrarvi questa bellissima particolarità di questa borsa appunto proprio che quando l'andiamo a chiudere formerà questa fantastica rosa bellissimo guardate come sono belli questi petali molto molto bella poi ci sta anche questo cancetto in modo da poterla appendere vicino alla vostra borsa che utilizzate oppure vicino alle vostre chiavi molto comodo questo gancio poi vediamo dietro come va chiusa qua basta fare così e andiamo ad aprire la nostra borsa vediamola insieme come si presenta all'interno ci troviamo questo qui che si trova in tutti i prodotti avon allora la voglio aprire perché ci tengo molto a farvela vedere che veramente bellissima io ne vedo molti di queste qua anche io la uso spesso allora poi è di un bellissimo colore ecco qua come possiamo vedere qui troviamo il nastrino della solidarietà veramente molto molto bella poi qua possiamo fare così possiamo andare comunque a stringere con il gancetto qui e formare la rosa anche qui sopra mentre andiamo a fare la nostra spesa nel supermercato e quindi sarà anche una decorazione quando la borsa la teniamo aperta faccio vedere anche il retro eccola qua veramente bellissima ve la consiglio adesso vi voglio far vedere anche dove la troviamo e a che prezzo la troviamo allora qua la possiamo trovare in campagna 7 sul volantino aggiuntivo al catalogo quindi la troviamo a pagina 31 vedete la trovate a 3 euro e 50 è una borsa shopper è per una buona causa vediamo qual è questa causa per ogni borsa shopper nastrino della solidarietà venduta in campagna 7 sarà devoluto 65 centesimi per supportare progetti per la prevenzione e cura del tumore a seno shopper nastrino della solidarietà pieghevole munita di astuccio con chiusura a colusse gancio in plastica 56 per 37,5 centimetri altezza del manico 18 centimetri virgola virgola 5 poliestere poi come c'è scritto qua si ripiega in una rosa quindi ritornerà magicamente insomma una bellissima rosa che dire io spero che l'acquisterete tutti perché veramente una causa importante soprattutto per noi che siamo donne dobbiamo sostenerci a vicenda ricordo che avon fa parecchi prodotti per la solidarietà se ne occupa sia del tumore a seno che dei mattrattamenti delle donne quindi vi consiglio quando vedete questi prodotti del nastrino della solidarietà di acquistarlo perché va i soldi vanno alle persone con problemi o al seno oppure che vengono maltrattate in casa e poi il resto diciamo va ad avon diciamo che la presentatrice su questi prodotti non ha un guadagno perché va direttamente ad avon e a questi centri che aiutano le donne spero che questo video vi sia stato utile iscrivetevi al canale lasciate un like condividete il video con tutti i vostri amici e noi come sempre ci ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi